Le fiamme gialle del comando provinciale di Treviso nei giorni scorsi nell'ambito dell'attività di monitoraggio delle sedute d'esame per il conseguimento della patente di guida categoria B hanno sorpreso nel corso di due distinte sessioni di valutazione, tenutesi presso la locale motorizzazione civile, due candidati, entrambi con addosso uno smartphone occultato tra gli indumenti, un router e un minuscolo auricolare senza fili, dispositivi che consentivano a terze persone collegate dall'esterno di visionare le domande d'esame e suggerire le risposte corrette. I finanzieri del gruppo Treviso, con il supporto dei colleghi della compagnia di Castelfranco Veneto e della tenenza di Montebelluna, hanno rintracciato i due candidati grazie all'esaminatore, che in sospettitosi dell'atteggiamento particolarmente circospetto dei due aspiranti che indossavano due felpe simili con cappuccio di taglia superiore alla corporatura, ha immediatamente attivato la guardia di finanza al numero 117. Una volta al cospetto delle pattuglie intervenute sul posto, i due concorrenti hanno consegnato spontaneamente i kit necessari per superare in modo illecito le prove d'esame, tra cui la felpa, al cui interno erano stati incollati un router e uno smartphone, la cui videocamera spuntava dall'indumento attraverso una minuscola apertura. Grazie a tutti.